Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 30 novembre 2020. Siete sul canale 17 di Fano TV, questa è l'informazione in diretta del primo mattino con la lettura dei giornali. Abbiamo selezionato anche questa mattina le notizie, i titoli delle notizie più importanti a nostro giudizio. Allora cominciamo dal santo del giorno, oggi la chiesa ricorda Sant'Andrea Apostolo, il sole sorgerà alle 7.25 e tramonterà alle 16.33. Adesso vediamo il tempo. Il bollettino che prendiamo come sempre in esame tutte le mattine è quello della protezione civile delle Marche. Per oggi cielo sereno poco nuvoloso, così come per domani, primo dicembre, il tempo peggiorerà nelle giornate di mercoledì e giovedì. E adesso i giornali. Il titolo di apertura del Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, Marche Nord, via allo screening. Unità di crisi per i positivi al Santa Croce con riorganizzazione dei posti letto e test al personale. Negli ospedali della regione 30 dimessi al giorno ma crescono i ricoveri. In un mese 236 vittime. A centropagina Fano a Picco, la Vis sfiora la rimonta, sconfitte con Verona e Padova. Di spalla nelle Marche la campagna anti-Covid con due vaccini. Le Marche si preparano all'arrivo dei vaccini anti-Covid e aspettano il ministro Speranza, che mercoledì illustrerà in Parlamento la campagna vaccinale. Se tutto andrà come dovrebbe, entro la fine di gennaio potrebbero arrivare le prime dosi. Circa 80 mila per operatori sanitari e sottosanitari, gli anziani, ospiti delle case di riposo e gli over 80. A Pesaro per il biodigestore c'è l'appoggio di Legambiente, mentre Caritas campagna per le famiglie più assistenza, Occhielli a Vallefoglia sogna la metropolitana di superficie. Di taglio basso, tonno rosso, fantasma, maxi sequestro a Fano, scoperta e distrutta una tonnellata di pescato. Sempre da Fano, tassa rifiuti, il Comune incassa 4 milioni di utili al bilancio. Il Carlino invece a centropagina, Covid, barricate al Santa Croce, il focolaio in corsia si allarga, spuntano nuovi contagi nell'ospedale fanese, 20 pazienti positivi isolati in un padiglione, decisi, test a tappeto immediati per tutti i degenti e il personale sanitario della struttura. Mentre a Fermignano, ostaggio del virus, allarme nel paese di Burioni, crescita esponenziale, si sfiorano i 100 casi, il sindaco chiede screening di massa, una tonnellata di tonno per il mercato nero, mentre alla Maxi Torre vicino alle case, in via Costa a Pesaro scatta la protesta. Il governatore in isolamento, Acquaroli, dice sono negativo ma devo ancora aspettare e poi picco di positivi, sono i tamponi però accumulati nelle ultime settimane, muore un 51enne. Lo Sport, Alma è notte fonda, passa la Virtus, Verona, la Vis sfiora la rimonta, ma che batosta. Andiamo a vedere la prima pagina invece del Carlino di Ancona, la fotonotizia, Ristori Zero, locali chiusi a Natale, titolari infuriati, una presa in giro. Acquaroli, un sospiro di sollievo, il governatore, tampone negativo, la curva del contagio non si ferma e fa altre nove vittime nelle Marche. Casi Covid al Santa Croce di Fano, via allo screening a tappeto, raggiunta quota 30, Marche Nord convoca l'unità di crisi per la riorganizzazione d'urgenza, test antigenici a tutto il personale e nuovi tamponi, recordi positivi nella provincia. Ieri 157 e poi sempre dal giornale Focolaio al Santa Croce, altri contagi, 20 positivi isolati e tamponi a tappeto. L'ospedale di Fano non è più Covid free, pazienti sistemati nel padiglione C, effettuati oltre 500 test adegenti e personale. Ieri si è riunita l'unità di crisi, dopo che erano emersi altri contagi, a Medicina 3 e Gastroenterologia. Su questo argomento, ieri il nostro sito internet, ieri la nostra redazione ha lavorato, Simona Zonghetti è andata ad intervistare, e qui andiamo a vedere il nostro sito occhionotizia.it, andate ad intervistare il direttore dell'ospedale, il titolo Covid, genti positivi al Santa Croce, il punto con la direzione sanitaria. Se entriamo dentro, troveremo e troverete anche l'intervista, il servizio che abbiamo realizzato, vi invito a guardarlo, già è stato visualizzato da tantissime persone, si fa il punto con la direzione del Santa Croce, quindi ci sono tutte le persone interessate a questa gestione del Covid all'interno del Santa Croce, le abbiamo intervistate, e questo servizio lo potrete vedere sul nostro sito internet, appunto, occhio alla notizia. Allora, andiamo avanti. A Fermignano, dicevamo, a Fermignano esplode il virus, 100 casi, il sindaco Emanuele Feduzzi dice, vi prego di stare a casa, siamo il terzo comune più contagiato, qui serve uno screening di massa. A Fermignano è allarme rosso, è il terzo comune della provincia dopo Pesorefano, con più positivi, quasi 100 persone sono state colpite dal virus, soltanto 15 giorni fa erano 11. Si tratta di un focolaio scaturito, prevalentemente all'interno delle famiglie. C'è un motivo, fino all'entrata in vigore della zona arancione, a Fermignano era facilissimo vedere aperitivi, feste e compagnie muoversi allegramente. Ieri il sindaco Feduzzi, in diretta Facebook, insieme al vice Alessandro Betonica, ha spiegato di aver chiesto al prefetto e all'Asur uno screening di massa di tutto il paese. Mi hanno chiesto, mi hanno risposto, anzi che ancora è presto, che i numeri dei contagi non lo permettono, ma questo non toglie che la situazione sia seria. Chiedo alla gente, dunque, di restare a casa. Ho contattato, dice anche il dottor Burioni, che è cresciuto a Fermignano e ha la casa nel paese dove torna abitualmente, chiedendo che cosa fare. E Burioni mi ha ripetuto di stare attenti e dunque di non uscire di casa per niente. Questa è la ricetta di Burioni. Intanto, sempre dal Carlino, le pagine nazionali, regalo di Natale, due vaccini sotto l'albero. Oggi le regioni faranno il punto e domani saliranno, per così dire, sul ring per combattere con le loro richieste, con il governo, contro il governo. Sono richieste di rotture, come quella, di rottura, scusate, come quelle anticipate dal governatore Giovanni Totti della Liguria, che chiede una zona bianca, quindi una zona dove è possibile consentire un Natale un po' più libero anche all'economia e alla socialità. Ristoranti dunque aperti la sera, così si chiede, così chiedono alcuni governatori, e nei giorni delle clou festive, delle feste, insomma. Ma la proposta cozza, con l'intenzione del governo, di mantenere il coprifuoco, quindi di tenere chiusi tutti i ristoranti a Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno ed Epifania, e quindi di non concedere neppure il turno serale nelle zone gialle per tutto il mese di dicembre. Sapete che anche quando si è in zona gialla i bar e i ristoranti possono tenere aperti, però le 18 devono chiudere. Quindi, ecco, non c'è nemmeno questa deroga. C'è la giornata delle Marche, invece Silvestri verso il Picchio d'Oro. Chi è Silvestri? Il professor Guido Silvestri, famoso virologo con base negli Stati Uniti, ad Atlanta, e siccome c'è questa giornata che è stata, tra l'altro, confermata, giornata delle Marche, che si svolgerà giovedì 10 dicembre nel Palazzo Apostolico di Loreto alle ore 17, questo anche perché Loreto è stata scelta perché è quest'anno, ma anche il prossimo sede del Giubileo, insomma l'unico Giubileo al mondo che c'è in questo momento, è a Loreto, e quindi ci sarà questa iniziativa. La Giunta Acquaroli conferma a questo evento il famoso immunologo, virologo che lavora all'Atlanta, che però è di Senigallia, verrà premiato con il riconoscimento che si chiama Picchio d'Oro. Due vaccini, otto congelatori e la campagna anti-Covid, la lunga attesa delle dosi, le Marche giocano d'anticipo per la profilassi che dovrebbe iniziare a fine gennaio, quasi definito l'acquisto dei refrigeratori in grado di conservare le fiale della Pfizer, soprattutto che cosa è previsto? Andiamolo a vedere con questo riquadro del Corriere Adriatico di oggi. Velocemente, allora abbiamo, intanto dobbiamo dire che abbiamo due vaccini in Italia che saranno a disposizione, quello della Pfizer-BioNTech e quello di Moderna. Poi l'Iter prevede e mancano in questo momento soltanto le approvazioni di due agenzie, FDA e EMA. EMA dovrebbe esprimersi però intronatale. A fine gennaio, ecco la notizia importante, le prime vaccinazioni nelle Marche, fine gennaio. La priorità chiaramente sarà per gli operatori sanitari e sottosanitari, per gli anziani che sono nelle case di riposo e chi ha più di 80 anni. Questi saranno i soggetti destinatari di questi primi vaccini. Vaccini che si somministreranno in due dosi, come ormai ben sappiamo, due a distanza di un mese. Per quanto riguarda l'organizzazione, ci sarà una hub ogni 30.000 abitanti, quindi nelle Marche saranno 50. saranno coinvolti medici di base, ospedali drive-in, palestre e ospedali da campo. Chiusa la pagina Covid, anche se poi la ritroveremo qua e là, pescano illegamente il tonno, finiscono nei guai, una tonnellata di prodotto a Fano finirà distrutta, un peschereccio aveva creato una stiva abusiva che non è sfuggita però alla guardia costiera. Ecco, i toni sequestrati impacchettati pronti per il mercato nero pesano sui 45 kg l'uno e saranno, come abbiamo detto, distrutti. droga e alcol, anche con il coprifuoco, piogge di multe, denunce della Polizia a Senigallia che deve intervenire sul lungomare per una rissa tra ragazzi. Mentre a Fano, la buona notizia è che sono state recuperate le tasse, il bilancio dunque sorride al posto di piangere, così come piange in molti comuni della nostra regione. Entrate per 4 milioni grazie all'Atari. l'imposta di soggiorno cala di 60 mila euro ma il balzello sui rifiuti tocca quota complessiva di 3 milioni e 75 mila euro. Saldo positivo di 515 mila euro, il resto accantonato anche per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Mentre sotto, qui di taglio basso, ecco di nuovo il covid, paura del covid in ospedale, il dottor Gabriele Farusini dice io ho più paura a fare la spesa, il primario chiede il rispetto delle norme al supermercato e in città. In sostanza Farusini dice vedo ancora molte persone con la mascherina sotto il naso perché gli occhiali si appannano oppure gente che fuma tranquillamente come se il fumo allontanasse il covid in realtà peggiora le cose insomma vedo tante situazioni che non vanno bene e questo anche quando si è in compagnia di persone ancora c'è gente che continua a parlare a fare anche piccoli assembramenti di due o tre persone anche per strada ecco in condizioni assolutamente poco sicure e quindi Farusini chiede questo di fare attenzione di indossare tutti la mascherina correttamente e mantenere le distanze. Il Corriere Adriatico pescano una tonnellata di tonno rosso illegale blizza delle guardie costiere a sequestro in multa occultato in una seconda stiva e sbarcato abusivamente a Fano il pescato privo di tracciabilità sarà distrutto e questo è davvero un bel peccato Eremo di Montegiove stanziati 30 mila euro i lavori per il refettorio Fai il monastero risulta dodicesimo a livello regionale mentre il piano B sul biodigestore va a vuoto e c'è l'endorsement quanto piacerà questi titoli c'è l'appoggio forse si capisce meglio di Lega Ambiente l'appoggio di Lega Ambiente che si capisce perfettamente la presidente di Lega Ambiente Pesaro Urbino Cipolletta dice l'impianto non è solo utile ma necessario si prevede un dibattito però molto acceso per la parte invece la stabilizzazione dei precari della TS1 avviata la procedura i sindacati dicono questa è una vittoria per tutti via Costa a Pesaro la Maxi Torre vicino alle case raccolta di firme per contrastare l'approvazione definitiva del piano particolareggiato Copredil prevede un edificio di 40 metri saranno coperti quasi due ettari di terreno oltre ai parcheggi in superficie poi c'è questa disavventura che viene raccontata sul giornale vanno sul carlino vanno a sistemare la centralina dell'Enel e a me è saltato tutto l'impianto abbiamo visto come affanno nei giorni scorsi nella giornata di sabato credo che sia di sabato insomma anche affanno in via Roma tanti esercizi tanti esercizi commerciali hanno avuto a che fare con tanti danni perché è saltata la corrente e quindi con gli sbalzi di corrente poi si rompono computer frigoriferi tutte le cose elettroniche elettroniche soprattutto vanno in difficoltà metropolitana di superficie dalle pagine del Corriere di Vallefoglia serve anche la nostra valle dice il sindaco Cucchielli che invita l'assessore regionale Baldelli ad allargare lo studio di fattibilità tra Urbino Morciola Montecchio e Pesaro c'è l'80% dell'economia provinciale poi a Ponte appena inaugurato ma ci sono le magagne sempre a Vallefoglia il ponte in legno che collega Morciola con Tavuglia è stato appena inaugurato dopo un'attesa di quasi tre mesi e di lavori cofinanziati per 45 mila euro ma alcuni residenti della zona fanno notare come si vede in questa fotografia un po' di magagne travi ballerine anche con solo una leggera pressione e quindi si muovono e alcune sono invece ci sono alcune spaccature vistose sugli elementi portanti poi l'amianto nei capannoni sempre a Vallefoglia approvata la mappatura passa la mozione del Movimento 5 Stelle andiamo sulla pagina di Urbino online e idee così il commercio si mantiene vivo c'è anche chi adesso apre il take away il caso Sushi Art inaugurato da tre giovani due settimane fa Lotti che invece fa consegne a domicilio piano sociosanitario stop equilibri pubblico privato visita di cancellieri all'ospedale educale carenza di personale Valcesano screening nella ex scuola di Bellisio tutti i medici di base sono coinvolti i test rapidi sono riservati i soggetti asintomatici verranno effettuati due volte la settimana mentre sempre da Mondolfo decessi il balzo negativo a Mondolfo così come a Pergola è pesante il raffronto rispetto agli anni precedenti tra l'altro vi ricordo che questa sera dopo il telegiornale a primo cittadino ci sarà il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri foro foro vetrate all'ex pescheria i lavori slittano al nuovo anno regine dice la ditta non ha accettato siamo a Senigallia di fermare il cantiere dopo il 4 dicembre lite sul lungomare invece donna ubriaca e multata la polizia ha anche segnalato due persone alla prefettura per possesso di stupefacenti siamo allo sport il fano scivola in fondo rimontato al Mancini fano che perde 2 a 1 contro la Virtus Verona rimontato al Mancini da una Virtus che approfitta dai soliti svarioni dei Granata prima sconfitta per destro dopo due pareggi l'ultimo posto in classifica dunque diventa realtà la Vis perde 5 a 3 a Padova Vis Festival del Golamaro Biancorossi sotto 0 a 3 dopo appena 21 minuti poi la musica cambia Gennari segna il prima del riposo Bifulco sembra chiudere la partita ma De Feo si scatena e i pesaresi vanno ad un passo dal pareggio siamo in chiusura e allora noi ci fermiamo qui grazie per aver seguito la nostra segna stampa vi ricordo anche che alle 18.30 per tutti i bambini oggi inizia il nostro consueto appuntamento con la casa di Babbo Natale in diretta così come avviene nel periodo natalizio quindi invito tutte le mamme che hanno i figli a casa e che vogliono passare qualche o un'oretta in compagnia di Babbo Natale in televisione possono contattare la redazione possono chiamare anzi la segreteria quindi chiamare la televisione e parlare in diretta giocare in diretta con Babbo Natale che sarà qui ogni lunedì mercoledì e venerdì fino al 23 di dicembre poi come abbiamo detto occhio alla notizia alle 20.30 e subito dopo l'appuntamento con Primo Cittadino e l'ospite che abbiamo già annunciato Nicola Barbieri Sindaco di Mondolfo grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti Grazie 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 a tutti